L'obiettivo è quello di fare in modo che a giugno tutti i residenti di Manfria che hanno la volontà di volere l'acqua pubblica 24 ore su 24 possono averla attraverso questo progetto realizzato dal Consorzio Piana Marina che dà la possibilità ai cittadini di Manfria, ai residenti di Manfria di avere l'acqua pubblica. L'amministrazione facendosi parte attiva ha annunciato oggi che il progetto di Consorzio Piana Marina continuerà per ricoprire tutta la rete idrica senza per questo inficiare i fondi pubblici tant'è che Caltacqua e Lato Idrico hanno dato già disponibilità di valutare nell'Emoreco che il progetto sia complementare a quello del Lato Idrico e quindi coincidente per molte delle parti di acquisirlo come il resto delle reti divenendo una rete pubblica a tutti gli effetti. Noi cerchiamo di dare una risposta ai cittadini, abbiamo avuto la possibilità di sostenere un project financing per poter realizzare sin da subito la rete idrica la rete idrica che verrà realizzata in tempi molto rapidi perché verranno utilizzati sistemi innovativi come il Nodig che avranno un bassissimo impatto sulle strade per poter quindi dare finalmente un bene prezioso come l'acqua. Da tanti anni finalmente possiamo avere l'acqua 24 ore su 24 e acqua potabile. Abbiamo lavorato in sinergia con l'amministrazione comunale appunto per poter far sì che il progetto di Piana Marina venisse esteso anche a Mampria per cui stiamo cercando di dare questo servizio che tutti i cittadini di Mampria stanno chiedendo all'alta voce. Abbiamo pensato che per noi potrebbe essere una fonte sia di investimento che di lavoro dura duro per la nostra azienda e quindi abbiamo sposato questa causa e siamo andati avanti. Oggi, circa l'anno scorso, il dottore Gio M. Ragnolo ci propone che alcune persone della zona di Mampria volevano essere serviti del servizio idrico che avevano già fatto richiesta di adesione al consorzio Piana Marina. Avendo noi consorziati ci siamo fatti i nostri conti, i nostri calcoli, abbiamo pensato di fare un altro investimento su Piana Marina. C'è lo sviluppo dell'area portuale del porto rifugio di Gela tra le priorità individuate dal Partito Democratico nell'ambito della programmazione dei progetti da finanziare con i fondi di compensazione destinati da Leni al Comune di Gela. I componenti del partito ritengono infatti che dare la giusta importanza alle problematiche afferenti le attività marittime a Gela possa dare il giusto impulso per un incisivo sviluppo economico territoriale. Il capogruppo consigliare del Partito Democratico, Enzo Cirignotta. Ho chiesto a una riunione del Partito Democratico, del direttivo, per stabilire i criteri sull'utilizzo delle compensazioni previste dal protocollo, dall'articolo 6 con precisione. Diciamo che questa è una battaglia vecchia del Partito Democratico, anche con la vecchia amministrazione. C'era quella di orientare in via prioritaria questi fondi verso interventi mare, fronte mare, li abbiamo chiamati. Quindi l'area portuale, ma già scritto sul protocollo che una parte dei fondi devono essere destinati alla riqualificazione portuale della città, il lungomare, il costone borsellino. E poi un altro intervento prioritario è quello che fa riferimento al reflo in agricoltura, all'utilizzo delle acque e reflo da destinare ad uso agricolo. Voi fate riferimento a una somma di circa 4 milioni di euro su quanto? Sono 32 milioni le somme previste nel protocollo. E comunque i criteri che abbiamo voluto adottare comunque indicare durante la riunione del direttivo sono quelli di andando a concentrare questi investimenti su pochi interventi, pochi interventi ma importanti e qualificati. Quali sarebbero? Stiamo lavorando per definire anche questi progetti, per ora noi preferiamo parlare di criteri, come utilizzare queste somme. Naturalmente interventi che hanno un ricaduto occupazionale e per quanto riguarda lo sviluppo economico della città. E poi interventi, come dicevo prima, che vanno a privilegiare in via prioritaria infrastrutture che riguardano il mare, comunque il fronte mare. Oltre alla individuazione dei progetti che ci pare di capire in corso d'opera, quali saranno le azioni postenessere dal Partito Democratico per l'attualizzazione di questi progetti? Intanto nella competenza di capo e gruppo mi farò portavoce della linea politica del Partito Democratico, in base a quando è stato stabilito nel direttivo. Dopodiché è chiaro che l'utilizzo delle compensazioni è un utilizzo che deve essere concordato in Consiglio Comunale e con tutti gli attori in causa. Ricordiamoci che poi deve essere stipulato un protocollo di intesa tra il Comune di Gela, la Regione Siciliana e l'Eni. 10 progetti nati dalle direttrici del protocollo del 6 novembre 2014 per tre macro-aree prioritarie in tema di riqualificazione urbana, spazi aggregativi e riqualificazione della portualità territoriale. Si tratta delle proposte della Giunta Comunale di Gela sull'utilizzo dei fondi di compensazione dell'Eni, illustrate in conferenza dei capi gruppo. L'assessore dello sviluppo economico, Simone Siciliano, ha chiarito che la logica degli interventi è volta a coadjuvare lo sviluppo dell'attività fronte-mare, incentivando il recupero funzionale da un lato e la nascita dall'altro delle appendici portuali di carattere turistico e industriale sul Mediterraneo, fondendo attraverso interventi strutturali le due sorgenti di ricchezza del territorio gialese, quali le spiagge dorate e la bellezza del centro storico federiciano. Il passaggio con i capi gruppo era d'obbligo per l'amministrazione, per un primo confronto prima di andare in Consiglio Comunale per parlare e mostrare quello che l'amministrazione intende sviluppare con una parte degli oneri di compensazione. Sono state individuate tre macro aree con priorità diverse che fondamentalmente abbracciano la logica degli oneri di compensazione così come previsto dal protocollo d'intesa. Si tratta quindi di investimenti che riguardano lo sviluppo economico della città alternativo alla presenza industriale, con un affaccio alla sostenibilità energetica, all'aggregazione sociale e soprattutto per quello che riguarda la tutela della salute. Quindi è nostra intenzione soprattutto per quest'ultimo punto fare i passaggi d'obbligo per cercare di capire se è possibile istituire ad esempio un istituto di un centro di ricovero e cura, vista la gravità della situazione di alcune patologie presenti in città. Ovviamente stiamo cercando di puntare molto sul fronte mare per quello che riguarda le appendici portuali, cioè il porto rifugio e il porto industriale, per cui da tempo l'amministrazione si muove all'interno delle infrastrutture per trovare una soluzione per dare vitalità al combattimento industriale. Come dicevo i centri di aggregazione, partendo ad esempio dai salesiani, ristrutturando alcune parti di uno degli oratori più storici della città come appunto dei centri di aggregazione storica, ma passando anche per uno stello della gioventù presente proprio sotto la casa comunale che possa servire da unione per le due parti della città, cioè il fronte mare e il centro della città, che per l'amministrazione rappresentano le due sorgenti di ricchezza alternative del territorio. Non possiamo assistere ad una città sempre di più in balia di un'amministrazione comunale inadeguata che oramai ha perso sia il sostegno del Movimento 5 Stelle che quello dei cittadini gelesi, delusi e pentiti di averla votata. Un'amministrazione che invece di valorizzare Manfri e cercare di fornire gli servizi e infrastrutture per renderla vivibile e fruibile dal punto di vista turistico e attrattivo, la sottopone ad un'ulteriore ingiustizia, sottraendogli l'opportunità di essere dotata finalmente di una rete idrica finanziata con fondi pubblici. È il pensiero di Carlo Romano del coordinamento dei coraggiosi di Gela che fa riferimento a Fabrizio Ferrandelli. Condivisa l'iniziativa del consigliere Salvatore Gallo che ha chiesto al presidente del consiglio Alessandra Ascia la convocazione di una sise civica straordinaria ed urgente in cui il sindaco e l'aggiunta comunale chiariscano se rinunciano ai fondi pubblici ripiegandosi privati per realizzare la rete idrica a Manfria. Condividiamo con Gallo, sottolinea la nota, la preoccupazione che i residenti di Manfria subiscano ulteriori mortificazioni e prevaricazioni e si vedano costretti a pagare di tasca propria una rete idrica già peraltro finanziata con fondi pubblici e pronta per essere realizzata. Chiediamo al lato idrico di Caltanissetta e a Caltacqua, complici involontari di questo possibile ulteriore scempio che la nostra collettività rischia di subire, dichiarire al più presto la loro posizione e, se è vero, che hanno rinunciato a realizzare la rete idrica con fondi pubblici facendola realizzare ai privati e caricandola sulle spalle di inconsapevoli ed inermi cittadini gelesi che si sentirebbero sempre più abbandonati da questa amministrazione. Ieri, in conferenza stampa, durante la presentazione del progetto del Consorzio Piano Marina che verrà gestito dalla Divina Acquedotti, il Sindaco Domenico Messinese ha chiarito che non sarà perso alcun finanziamento regionale. Stiamo solo accelerando la realizzazione della rete idrica a Manfria che così potrebbe entrare in funzione già a partire dall'imminente stagione estiva. Il Comune di Gela ha concesso le autorizzazioni sulle quali Caltacqua non ha obiettato. La società spagnola, con le stesse somme del finanziamento della regione siciliana, potrebbe acquisire in seguito l'impianto il cui progetto era sovrapponibile a quello del 2007. L'investimento previsto dal Consorzio Gelese ammonta 1,3 milioni di euro e procede su una corsia veloce anche perché viene bypassato l'iter degli espropri. I terreni interessati dei lavori infatti appartengono in gran parte agli stessi consorziati. Si tratta di circa 330 associati che, secondo le previsioni del Consorzio Pienomarina, potrebbero sfiorare le mille utenze una volta ultimata la condotta. Si trattava di un ordinario servizio di controllo del territorio a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa del commissariato da parte di un carabiniere libero dal servizio. Tempestivamente una pattuglia è giunta sul luogo segnalato e si tratta del centro storico di Gela in cui questo carabiniere si è trovato dinanzi ad una scena raccapricciante di due stranieri poi identificati come due stranieri nella fattispecie due rumeni che stavano strattonando e picchiando senza pietà questo cane, questo cagnolino meticcio che è stato subito messo in salvo e trasferito presso il ricara di Caltanissetta. La vicenda chiaramente ci ha sorpresi notevolmente. I due soggetti erano già stati intimati a lasciare il nostro territorio. C'era già per uno un decreto di allontanamento già notificato, per l'altro invece ieri presso il centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta si è provveduto a notificare un decreto di espulsione ad accelerare la procedura amministrativa tesa appunto a allontanare dal territorio italiano i soggetti che abbiano manifestato attraverso condotte e commissione di reati di vario genere una pericolosità sociale che li rende inadeguati alla permanenza nel nostro territorio. Ovviamente noi li abbiamo denunciati per maltrattamento di animali, previsto e punito all'articolo 544 terra del codice penale, quindi la normativa è già abbastanza completa per quanto concerne il necessario rispetto che è dovuto dagli esseri umani agli animali. Al di là di un affetto che insomma dovrebbe essere naturale nei confronti anche degli animali ovviamente queste sono condotte penalmente perseguibili, bisogna dirlo una volta per tutte. Sì, sono penalmente perseguibili e la perseguibilità è d'ufficio, prescinde dalla denuncia di qualunque persone perché noi possiamo procedere autonomamente per fare in modo che chi abbia commesso reati così spreggevoli possa pagare le relative conseguenze previste dalla legge. Il cagnolino in questo caso che fine farà? Il cagnolino è stato trasferito presso la struttura che si occupa dell'accoglienza e della microcippatura dei cani trovati in strada che è il centro ricara di Caltanissette in attesa che trovi una collocazione definitiva e chissà, probabilmente noi del commissariato lo prenderemo come nostra mascotte, come mascotte della Polizia di Stato gelese. Ha anche un nome già questo cagnolino? No, se dovesse accadere che diventi nostro gli daremo un nome che magari gli renderemo noto successivamente. Il Movi è una realtà ormai fortemente consolidata nel territorio, tant'è vero che riesce ad aggiudicarsi addirittura un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delle possibilità enormi. In realtà il bando è stato di fatto vinto da una cooperativa che è stata creata ad hoc, che è la cooperativa Progetto H, però è vero che la Casa del Volontariato è diventata una social question factory, noi diciamo proprio una fabbrica della questione sociale, perché abbiamo la necessità di dare le risposte a questo territorio che non ha, questo è un territorio che è arido di proposte progettuali socialmente importanti. Allora mettere sotto sopra significa in qualche modo iniziare a guardare le cose con occhi diversi e questa è una straordinaria opportunità per 18 giovani che avranno la possibilità di fare un percorso di crescita per acquisire delle competenze tecniche e successivamente provare a creare occupazione. E all'interno di un gruppo che si mette a lavorare insieme per la prima volta, una delle cose da fare fondamentali è quella di creare appunto relazioni tra le persone e questo si fa con delle simulazioni per esempio, con delle attività che permettono di accelerare i processi di conoscenza tra le persone, che sono fondamentali perché poi se delle persone che faranno questo percorso dovranno a un certo punto scegliere se farne un lavoro o no, è importante che queste persone abbiano fiducia l'uno nell'altro e su questo lavoreremo abbastanza accanto a tutto quello che saranno gli aspetti tecnici e quindi le competenze appunto che ci vogliono per portare avanti una cooperativa che si occupa di produzioni tv. Quali sono gli ambiti delle competenze che verranno approfonditi? Saranno quelli della formazione di questo gruppo di partecipanti al progetto rispetto alla realizzazione di format televisivi, quindi tutta la formazione che riguarda il diventare operatori piuttosto e registi, fonici e quant'altro. L'idea è quella di costituire un gruppo di professionisti che dopo a fine percorso del progetto possano con le proprie gambe andare avanti. Avrete a disposizione certamente una grande quota di tecnologia, che cose esattamente utilizzerete e il bando ha previsto l'acquisto di quali attrezzature? Ha previsto l'acquisto di attrezzature di ultima generazione, tanto che siccome ci lavoriamo su questo progetto da un paio d'anni, nell'arco di questi due anni siamo stati costretti più volte a cambiare attrezzature in quanto la tecnologia sappiamo benissimo che da mese in mese fa passi da giganti. Quindi noi abbiamo scelto giusto qualche mesetto fa con Alberto praticamente, perché noi lavoriamo a stretto braccio, attrezzature di ultimissima generazione che si utilizzano nel mondo del cinema. Cercheremo di dare assieme ad Alberto delle nozioni come tecnica di ripresa sia nell'ambito televisivo che cinematografico, giusto per seguire i ragazzi, per iniziare a far capire qual è il linguaggio cinematografico. L'Assemblea siciliana sceglie una strada impervia per completare la riforma dell'ex provincia approvando un disegno di legge che adegua la Sicilia alla legge del Rio soltanto in tre dei quattro rilievi che erano stati mossi dal Consiglio dei Ministri qualche mese dietro nell'impugnativa di parte della legge che nell'isola ha sciolto gli enti sostituendoli con i liberi consorsi e le tre città metropolitane di Palermo, Catani e Messina. Con 33 voti contrari e 29 favorevoli, l'As ha bocciato con un voto segreto un emendamento del PD al testo esitato dalla Commissione Affari Istituzionali che assegnava di diritto ai sindaci di Palermo, Catani e Messina il ruolo di sindaco delle città metropolitane. In Sicilia dunque il sindaco metropolitano sarà il candidato che otterrà il maggior numero dei voti in un'elezione di secondo livello. Al momento della votazione finale i parlamentari di Forza Italia e PDGS hanno abbandonato l'aula, il Movimento 5 Stelle invece ha votato contro. Il disegno di legge ha ottenuto 38 voti a favore e 19 contrari. Mi auguro, ha detto il Presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, che non ci siano ulteriori impugnative neanche se sollecitate dai sindaci. Ardizzone ha richiamato più volte ed in ogni modo, prima e durante la seduta parlamentare, l'Assemblea ad attenersi al rispetto dei quattro rilievi del Consiglio dei Ministri e senza inserire nel testo norme aggiuntive. Ricordiamo inoltre che l'Assemblea regionale siciliana ha dovuto lavorare in un contesto anomalo in quanto il Governo aveva deciso di non appellarsi alla consulta contro l'impugnativa del CDM. Si doveva resistere davanti alla Corte Costituzionale, andare a battere pugni a Roma e non prostrarsi al Governo nazionale che, con i suoi tagli, è stato il vero carnefice dei siciliani e dei dipendenti delle ex province. Lo dice il Movimento 5 Stelle che, come dicevamo, all'ARS ha detto no alla legge istitutiva dei liberi consorzi. Anche con i correttivi operati, purtroppo, dicono i grillini, non cambierà la situazione dei lavoratori. Il voto del Movimento 5 Stelle ha contribuito a bocciare la coincidenza tra sindaco metropolitano e sindaco del capoluogo. Di tenore diverso, invece, il commento del PD. Abbiamo portato avanti un lavoro responsabile per mettere a regime la riforma che istituisce città metropolitane e liberi consorzi di comuni. Adesso i nuovi enti possono finalmente avere un assetto stabile. I dipendenti hanno le risposte che attendevano e i cittadini potranno avere certezza in merito ad una serie di servizi, Fino ad oggi in birico. Bellardita, qual è il pensiero che esprime Gio Lensis Populus sulla riforma varata ieri dall'Assemblea regionale siciliana in merito ai liberi consorzi e alle città metropolitane? Sì, ieri è stata definitivamente votata e quindi approvata la legge 15-2015 nella sua riformulazione a seguito dell'impugnativa governativa. L'impugnativa governativa riguardava quattro punti. L'approvazione di questa legge 15-2015 assorbe tre delle motivazioni di impugnazione del Governo nazionale. Lascia invece fuori una ragione, una criticità, che era quella che riguardava in prima battuta la coincidenza dei sindaci delle città di Catania, Palermo e Messina con i sindaci delle tre aree metropolitane. In maniera molto più pratica, domanda ricorrente. Quando Gela entrerà a far parte della città metropolitana di Catania anche in merito a quello che è accaduto ieri? Allora, in ordine a quello che è accaduto ieri, sostanzialmente noi temiamo che il fatto che sia rimasta fuori questa ragione di criticità e di impugnativa governativa non faccia demordere il Governo nazionale dall'impugnativa che ricordiamo è ad oggi in atto. Invece, per quanto riguarda il completamento dell'iter di passaggio, nulla a che vedere con quello che si è celebrato ieri all'Assemblea regionale. Nel senso cioè che ancora serve il decreto di giunta che deve a sua volta approdare all'Assemblea regionale il decreto di giunta che è quello che sostanzialmente ridisegna i confini. E su questo noi ci aspettiamo assolutamente celerità, anche perché ricordiamo che tutto l'articolo 44 e quello che era previsto nell'articolo 44 non è mai stato oggetto di impugnativa governativa per cui ci aspettiamo assolutamente conseguenzialità in questo senso dal Governo regionale e l'Assemblea regionale non potrà fare altro che prenderne semplicemente atto. E questo quando accadrà? Siamo in estremo ritardo perché l'assessore ci aveva detto che sarebbe tutto approdato a Lars immediatamente dopo l'approvazione della finanziaria, cosa che ad oggi non è stata fatta e siamo ancora in attesa. Pochi, sporchi e subito. Sarebbero i 32 milioni di euro che l'ENI deve alla città quale misura, davvero misera ma questa è, di compensazione per i tanti anni di inquinamento al nostro territorio. Lo ha previsto a margine il disastroso protocollo di intesa firmato il 6 novembre del 2014 dall'ex sindaco di Gela Angelo Fasulo. Quello che non si perderà un solo posto di lavoro e che invece sinora si è rivelato un bagno di sangue in termini occupazionali. Ma i 32 milioni di euro ci sono e bisognerà pur spenderli. Magari bene però stavolta e non come si è fatto in passato con le royalties della stessa ENI, investendoli per esempio in opere non solo utili alla città ma che soprattutto assicurino lavoro e sviluppo. Se ne è parlato ieri sera ad Agorà il rotocalco settimanale di Canale 10 che ha ospitato un parterre di ospiti che è andato dalla rappresentanza dell'amministrazione comunale con gli assessori al bilancio Fabrizio Morello e al turismo, cultura ed urbanistica Francesco Salinitro, al segretario cittadino del PD Peppe Di Cristina, al segretario provinciale della CGL Ignazio Giudice ed ancora all'attivista del Movimento 5 Stelle, oltre che ex assessore della giunta messinese Chetti Damante fino ad arrivare all'imprenditore Angelo Tuccio. Il dibattito in studio, molto serrato ed interessante, ha trovato condivisione sull'esigenza di individuare pochi ma importanti settori su cui far convogliare la spesa dei 32 milioni di euro. Evitare insomma la dispersione delle energie finanziarie per non incorrere negli evidenti errori del passato quando, come nel caso appunto delle royalties, si è scelto di far confluire in mille rivoli quei soldi finendo per non lasciare nulla di concreto alla città e al suo sviluppo. Nonostante qualche divergenza di vedute, come per esempio quella tra il neosegretario cittadino del PD di Cristina e l'esponente del Movimento Grillino Damante, alla fine si è convenuto che questo contentino che arriverà da Leni alla città di Gela dovrà servire per indirizzare in senso positivo il futuro di questo territorio e dei suoi abitanti. Chi volesse rivedere questa puntata di Agora potrà farlo attraverso la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10 oppure sui nostri indirizzi social ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata, come sempre con ospiti ed argomenti che interessano Gela ed i Gelesi. Prosegue aspeditamente la premendita dei biglietti per assistere alla partita Gela-Castelbuono che si disputerà domenica con un inizio previsto alle 16 al Vincenzo Presti che potrebbe rappresentare la pietra miliare per la promozione diretta in Serie D del club bianco-azzurro. Ancora una volta, così come era successo nella precedente gara casalinga del Gela, la dirigenza capitanata dal presidente Angelo Tuccio ha puntato tutto sulla sensibilizzazione verso i più giovani a recarsi allo stadio per sostenere la squadra della propria città. Ed in quest'ottica si inquadra la decisione della società di permettere l'ingresso gratuito a tutti i bambini fino agli 11 anni, mentre pagheranno appena un euro tutti gli studenti dalle scuole medie e superiori della città che acquisteranno il tagliando presso le scuole di appartenenza dove degli addetti del Gela Calcio si stanno recando in questi giorni. Prezzi invariati invece per gli adulti che pagheranno 8 euro in tribuna coperta e 5 euro in curva, mentre per le donne il costo del biglietto è di 5 euro in tribuna coperta e 3 euro in curva. Chi si accomoderà in gradinata riservata ai tifosi ospiti pagherà 8 euro. La partita di domenica prossima, terzo ultimo turno della stagione regolare in eccellenza, potrebbe riservare qualche straordinaria sorpresa. Il Gela intanto dovrà far suo il bottino in pario. E, lo abbiamo detto già in altre circostanze, non sarà proprio una passeggiata di piacere, considerato che il Castelbuono dello squalificato Mister Salvoricca è una squadra che gioca un buon calcio ed ambisce ai play-off. Ma se da grotte, dove sarà impegnata la vice capolista sancataldese, dovesse arrivare qualche notizia imprevista, in questo caso un mancato successo di Verdemaranto, allora la giornata potrebbe colorarsi ancora di più di biancazzurro. Ma intanto il Gela, lo ribadiamo, è chiamato a centrare la sesta vittoria di fila. Grazie per la visione!